Gara 3 del campionato italiano di Formula 4 dal circuito di Monza parte in goal position Colombo e al suo fianco invece parte Fernandez che però non riesce ad approfittare della partenza dalla prima fila c'è subito Bagarre con qualche contatto alla prima variante del circuito di Monza che è sempre particolarmente impegnativa Colombo nelle prime fasi cede c'è un attacco da parte di Marcus Armstrong il pilota che si è già laureato campione dell'Italia Formula 4 2017 con due gare di anticipo questo è uno dei momenti cruciali perché Petrov Artem che aveva commesso un dritto purtroppo nel rientrare va ad urtare Joab Van Uytert che si trovava in terza posizione ed è Sefeticar si riprende ma c'è poi ancora una Sefeticar per l'uscita di Brachigno che rimane fermo in mezzo alla pista e poi la vittoria di Colombo con Rodriguez secondo Emain in terza posizione e viene penalizzato infatti Armstrong Grazie